L'attività ormai pronta all'imminente apertura estiva è un rogo che in pochi minuti ne danneggia abbondantemente la struttura. Attimi di paura attorno a mezzogiorno all'ignano sabbia d'oro per un incendio che ha coinvolto il ristorante Newport di Viale Adriatico, locale situato dietro all'hotel Marina 1. Il rogo era visibile a diversi chilometri di distanza, tanto dalla bassa friulana quanto dal vicino Veneto. Noi alle 12.30 sono stati attivati circa, un minuto più, un minuto meno, che dalla sala operativa c'era questo incendio, si vedeva del fumo e c'erano gli operatori della Marina che hanno iniziato anche l'operazione di spegnimento, c'era questo incendio che stava interessando il ristorante. Nel corso dei lavori utili a rimettere in moto l'esercizio commerciale qualcosa è andato storto e le fiamme hanno cominciato a levarsi al cielo, una decina le persone presenti uscite prontamente dal ristorante. Tre addetti della vicina d'Arsena sono saliti sul tetto, completamente in legno, per cercare di spegnere le fiamme prima dell'arrivo dei pompieri. Due di loro intossicati hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari e sono stati trasportati in ospedale, nessuno in gravi condizioni. I danni sono notevoli perché tutta la copertura è stata interessata e soprattutto la parte della cucina con tutte le attrezzature varie ed eventuali, adesso vedremo insomma. Il rogo attorno alle 15 era sotto controllo ma l'operato dei vigili del fuoco è proseguito per tutto il pomeriggio al fine di scongiurare eventuali focolai. Le cause dell'incendio sono ora al vaglio dei pompieri e dei carabinieri intervenuti per i rilievi di legge. Il pensiero va ai titolari che ormai erano pronti al taglio del nastro stagionale.